Aveva 45 anni e gli ultimi 5 gli aveva passati a fare la spola fra la Brianza e il Bangladesh dove aveva aperto un'azienda tessile, la Star International. Pochi dipendenti e molta iniziativa imprenditoriale, i suoi assassini, sono stati condannati alla pena capitale. Claudio Capelli, imprenditore di Barzanò, era una delle nuove vittime italiane della strage del ristorante Olay Artisan Bakery Adakka, ucciso il 1 luglio del 2016 per mano dei terroristi islamici, mentre era a tavola insieme a due amici scampati miracolosamente alla strage in cui hanno perso la vita complessivamente 22 persone, di cui 9 cittadini italiani come il Brianzolo, papà di una bimba piccola e genero di Vittore Beretta, patron dell'omonimo storico marchio di Salumi. Per quell'azione sono finiti a processo 8 sciadisti, 7 degli accusati, sono stati giudicati colpevoli e condannati alla sentenza capitale, uno è stato assolto, mentre altri 5 erano già stati eliminati durante il raid per provare a liberare gli ostaggi. Si è trattato di un assalto particolarmente cruento, durato 12 ore, messo a segno con fucile d'assalto e macete. Il procuratore capo di Dhaka, Abdullah Abu, ha riferito come l'obiettivo del gruppo jihadista fosse la destabilizzazione del paese. Gli imputati potranno fare ricorso in appello.